E vedo che dei nostri amici, guarda, ecco qua, quindi se dovete dire qualcosa, no, ditelo in coro, uno, due, tre, o dopo se piange, cioè non venite per favore. Un'unità! Beppe! 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 Beppe Allora volevo dire due parole, grazie a tutti sono un po' emozionato perché parlare sul palco dei nomadi non è cosa da tutti i giorni quindi perdonatemi qualche errore, abbiamo organizzato questa iniziativa, quattro fan club del centro Italia Spillite Nomade di Terni, Abruzzo Nomade di Pescara, Stop the World di Chiaravalle, provincia di Ancona e le strade Angelo Romano di Roma abbiamo pensato di fare questa iniziativa perché quale modo migliore di festeggiare 70 anni se non durante un concerto sul palco penso che un'iniziativa migliore non poteva esserci Noi ecco, facciamo tanti auguri a Peppe, un grande applauso per tutte le emozioni che da 53 anni continuano a darsi insieme ai nomadi Grande Sergio! Adesso rimasso il microfono Buonasera a tutti, come sentite non ho una grande voce, meno male che io non canto quindi è un po' la fortuna dei nomadi Sono stati 53 anni bellissimi, sono stati anche anni di dolore, anni di persone che hanno abbandonato i nomadi, hanno scelto altre strade c'è chi purtroppo non è più con noi, quindi tanti amici che insieme a me alle 63 sono partiti Gabriele fai vedere la torta! Che sembrava così che potesse finire da un giorno all'altro Poi tutto quando si rischia che si va a rischiare il barile, no? Che si tocca il fondo Dopotutto può ripartire, basta quindi decidere le cose in quello che si fa Io ho avuto la fortuna di avere dei compagni di viaggio in questi ultimi 18 anni, 20 anni che sono bellissimi che mi hanno aiutato a portare avanti questa storia, ma soprattutto siete voi, il pubblico che c'è stasera che ci ha accompagnato in tutti questi anni bellissimi, che sono sempre più belli che io porto sempre nel cuore Io non riesco a stringere la mano a tutti, però vi abbraccio tutti virtualmente, vi ringrazio per questa storia Penso che le labbie è uguali, ma non è perché noi siamo più belli Perché è così, perché è una storia nata così, è nata da due 16 anni che si volevano divertire Che volevano fare della musica la loro vita Tutto qua, è molto semplice Grazie, grazie a tutti, buona continuazione Allora, l'iniziativa Beppe Nomadi 70 ha portato alla realizzazione di alcune maglie celebrative che sono quelle che indossiamo noi e che vedete indossate da molte persone qui, soprattutto sulle prime file Noi ecco, vorremmo chiamare ancora qui davanti, qui vicino a noi Beppe Ah, sta mettendo la maglietta, sì Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa, questa delle maglie Il cui ricavato netto va all'associazione Crescerai Di cui noi adesso consegniamo al Beppe il ricavato netto di questa iniziativa Allora, sì, lo diciamo, per adesso sono 850 euro Ma l'iniziativa prosegue Quindi chi vuole ordinare, vuole continuare, diciamo, con questa iniziativa a favore di Crescerai Può contattarci attraverso Facebook, attraverso le nostre pagine di Facebook dei quattro fan club promotori Che, lo ricordo, sono Abruzzo Nomade, Stop the World, Le Strade, Angelo Romano e Spirito Nomade Quindi, a piacimento, chi vuole, chi vuole può... Sì, ecco, vi ricordiamo che domani c'è la partita C'è la partita Sì! È un giorno insieme, sì, ok Grazie a tutti e auguri Beppe No, no, quella lì non è finita, mi ha detto Non si mette